Martedì sera due uomini di anni 31 e 24 sono stati arrestati dalla polizia di stato ritenuti responsabili di rapina aggravata. I due giovani riuscirono a salire a bordo di un autobus fermo nella centralissima piazza Aldomoro e successivamente a trafugare i bagagli di 14 turisti francesi che erano arrivati nella città dell'Ulivo. Il tutto è accaduto alla presenza dell'autista che rimase a bordo del veicolo ma immobilizzato dall'arrivo dei due malviventi. Quest'ultimi riuscirono a impossessarsi di telefoni cellulari, macchine fotografiche, biglietti aerei, passaporti e denaro contante per un valore complessivo di 1420 euro. Rintracciati a seguito di un'attività info-investigativa supportata da accertamenti tecnici, i due uomini sono stati identificati e associati, uno presso la casa circondariale di Bari mentre l'altro sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.